A meno due dalla fine, lotta serrata alla vetta del campionato d'eccellenza. San Donato, Tavarnelle e San Giovannese, come un anno fa, si contendono il girone, con la differenza che la passata stagione fu la colligiana a riuscire a spuntarla su tutti. Tre sono i punti di distacco fra le due compagini, che con ogni probabilità si potrebbero giocare tutto nell'ultima di campionato. Domenica però sarà il primo match ball per la capolista San Donato, che, se dovesse vincere, avrebbe assicurato almeno lo spareggio per la Serie D. E se la Sangio non dovesse portare a casa i tre punti con l'Albinia, la squadra di Mister Ghizzani avrebbe conquistato matematicamente, per la prima volta nella sua storia, la massima serie dilettantistica. Le due formazioni sono dal 22 febbraio a tre punti di distanza, quando fu, ironia della sorte, proprio l'Albinia a fermare i gialloblu con un pareggio. La San Giovannese non perde da ben otto partite. L'ultima sconfitta, guarda un po', è stata proprio contro la testa di Serie San Donato, con il gol di Bruzzone viziato da un leggero fuorigioco. Domenica il penultimo atto della stagione, con i bianco-azzurri che se la vedranno in casa contro l'Albinia, all'andata finì 5-1 per il Marzocco, e il San Donato Tavarnelle che sarà in trasferta nel campo del Porta Romana, all'andata finì 1-0 per i Fiorentini. Terreno di gioco in cui la Sangio portò via solo un punto, prima delle esaltanti sette vittorie consecutive. Tutti gli ingredienti sembrano esserci per una svolta al titolo, e se rimanesse tutto com'è, il 6 aprile sarà davvero l'ultima scena prima del sipario.